La giuria ha apprezzato molto la complessità di questo film, la difficoltà tecnica di girare tre strade, la cinematografia, la performance e il montaggio non lineare della narrativa. Il film è un ritratto cinematografico ed emotivo di una vita in prestante. Il vincitore è La La Land. La giuria è Amygdala.